Anch'io, Ilda Fantasia, insegnante della scuola dell'infanzia presso l'istituto comprensivo Ilaria Alpi, aderisco alla campagna Io leggo a casa per Montesarchio responsabile. La terra si è sentita male, la terra si è sentita male e all'improvviso ha smesso di girare. È debole, triste, molto stanca, sussurra, l'ossigeno mi manca, hanno bruciato i boschi, le foreste, l'aria che mi protegge, che mi veste. I fiumi, i mari hanno avvelenato, ho il cuore che non regge, si è ammalato, dice il sole alla luna. Che facciamo? La nostra amica, come la curiamo? Che fare? Si chiedono le stelle, chiamando in cielo tutte le sorelle. Crida un bambino, ti proteggeremo. Almeri, piante, noi semineremo. Puliremo i fiumi, i laghi, il mare, ti prego terra, continua a girare. La terra commossa dal dolore dei bambini, del cielo e delle viole, riprende a girare piano piano e saluta il sole da lontano. Poesia di Erminia dell'Oro La terra commossa dal dolore dei bambini, del cielo e delle viole, riprende a girare. Grazie a tutti.